Le banche commerciali sono sempre nemiche di famiglie e imprese. Falso! Non sono le banche commerciali in sé il problema, ma il sistema finanziario di cui sono parte. Il sistema dell'euro impone ferre regole di austerità che gli stati devono rispettare e imporre ai propri cittadini, mentre per i mercati finanziari, che conducono il gioco, l'unica regola è il profitto, a tutti i costi. Le elite economiche speculano con investimenti altamente rischiosi e poi, col ricatto del debito, chiedono austerità fiscale e svendita finalizzate alla privatizzazione. Questo significa trasformare la finanza internazionale in una nuova modalità di attacco militare.